Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Io sono Zetamaintech e oggi siamo qui con un nuovo video Sono qui con una nuova serie di Clash of Clans Oh cazzo Ehm... Come si... Come si fa? Io non lo so No! Devi uscire Ma che cazzo fa... Ok ragazzi Questo qui è il mio villa Con il Municipio al 7 Faccio un'altra C'è un po' schifo lo devo ammettere Però diciamo che qualcosa lo so fatto 48 minuti! Raga! Vai guaritori! Allora perfetto Facciamo un attacco Come primo attacco Questo è scarso Ma non è vero madonna mia Perderò? Questo si sa Però vai Difficile però giocarci Difficile però giocarci Prego tutto con loro E li sir Ma perché vai là? Taci tua Papapam Qua ce la vogliono giusto Tre pure qua E guarda E guarda E guarda Raga Mi sono fatto tutto Loro Mi sono fatto tutto l'orale di sir Pure l'ottanta per cento Ragazzi Un applauso a Zeta Mine Questo era facile Questo era facile Però un applauso E anche ci facciamo No Ragazzi Non ce la facciamo Vabbè faccio passare Per uno spicchiolino ragazzi Però intanto 203 mila E centomila E di oro Allora Cosa mi posso Fare di più forte L'elisir Non me lo tengo Perché poi No Questo ancora me lo faccio Allora L'elisir Me lo tengo Perché poi ci faccio Posso fare O il fulmine al 3 Ragazzi Oppure me lo tengo E poi mi faccio I draghi Sai che ti dico Ma fotte sega Yeah Fulmine al 3 Signori Fulmine al 3 Toro dello stregone al 2 Che fino a mo Ce n'ho solo 2 Al 2 Mi faccio schifo Da solo ragazzi Va bene Mettiamo a fare Delle truppe Com'è veloce Guardate La cosa più veloce Al mondo Ragazzi Fate finta che non c'è Whatsapp Altrimenti li denuncio In questa serie Cercherò di non gemmare Anche se non c'è nessuno Da un anno Però Va bene Va bene Io Penso che possa Concludere qui il video Aspetta Aspetta No Sì Perché c'ho quasi La batteria scarica Quindi ragazzi Questo video è piaciuto Vi lascerò un bel like Commentate Iscrivetevi Bella Uscirà un altro video Di Clash oggi Bella